Partiamo da un presupposto. So bene quanto sia complicato patchare un bug, un glitch o un semplice errore all'interno di un programma seppur semplice. Ho studiato programmazione e spesso risultava frustrante patchare i bug nelle esercitazioni, mettendocisi pure in più di uno. Quindi penso che non molti tra di voi sappiano meglio di me quanto sia difficile e frustrante patchare un errore all'interno di un videogioco, che è un insieme di programmi, database, elementi grafici di ogni tipo e chi più ne ha più ne metta. Ma farlo passare come difficile per una società multimilionaria, se non probabilmente multimiliardaria, con decine se non centinaia di programmatori che Dio solo sa quanto siano cazzuti, capite bene che suona un po' come una presa per i fondelli. E il problema più grosso è che Rockstar non si è mai giustificata troppo in merito. Beh, oddio, almeno non dopo l'uscita del gioco. Prima lo hanno fatto anche troppo, usando la scusa del Abbiamo rimandato nuovamente il gioco per fornirvi l'esperienza di gioco migliore possibile, cercando di correggere tutti i problemi tecnici. Cosa che probabilmente hanno fatto, sicuramente. Ma non abbastanza, perché il gioco uscì poi con fin troppi problemi tecnici, soprattutto per quanto riguardava il comparto online. Senza contare il fatto che molti di questi, tra parentesi più grossi e gravi, se li porta dietro ancora tutt'oggi. Però fermi un attimo. In questo modo sembra il solito video lamentela contro le case produttrici negligenti che rilasciano un gioco in versione ufficiale quando invece non dovrebbe essere niente di più che una beta. O molto spesso, e non vorrei essere preso da esagerato dicendo ciò, addirittura un alfa. Sono tantissimi i giochi che vengono rilasciati in alfa quando invece effettivamente la casa produttrice li considera belli che finiti. Tutto questo per rilasciare pochi giorni dopo un aggiornamento di 1000 e 1000 GB più pesante del gioco stesso per correggere tutti i problemi. Quindi oltre ad aver danneggiato il giocatore rovinando gli primi giorni di gioco, lo perculano pure facendogli scaricare aggiornamenti che per la maggior parte delle connessioni italiane richiedono giorni per correggere dei problemi che non sarebbero dovuti nemmeno esistere in una beta e che sono lì visibili da tutti, pronti per essere patchati, dimostrando oltre che una scarsa conoscenza della programmazione informatica anche un alto grado di cecità da parte degli sviluppatori. Beh si dà il caso che Rockstar non sia una di queste per fortuna, e per fortuna veramente oserei dire, e non lo è perché bene o male i problemi riscontrati su GTA Online più che su GTA 5 Offline sono problemi legati all'interazione continuativa nel tempo tra giocatori, in un ecosistema che per quanto una casa produttrice possa essere grande, non sarebbe mai stato verificabile in modo teorico e pratico utilizzando dei beta tester. In parole povere non potevano rendersene conto a priori prima del rilascio, era necessario che milioni di persone ci giocassero. E ciò che critico non è questo, ciò che critico è il fatto che Rockstar tutt'oggi se ne freghi della maggior parte dei problemi che ci sono su GTA Online, che possono essere semplici glitch o fastidiosissimi errori di rete. Già se giocate poco a GTA Online sicuramente vi sarete resi conto che è uno dei giochi più problematici che esistano su questo pianeta per quanto riguarda le interazioni tra i giocatori, che si tratti di unirsi alle sessioni o qualsiasi altra cosa di questo tipo, figurarsi cosa noto io che comunque bene o male, per divertirmi o per registrare, gioco parecchio a GTA Online. Però secondo me non siete ancora convinti. No 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 no, voi siete scettici, e fate bene ad esserlo con tutti i charlatani che ci sono oggi giorno online. Voglio quindi darvi le prove inconfutabili di ciò che sto dicendo, parlandovi di problemi evidenti che tutti possono vedere e verificare presenti tutt'oggi su GTA Online. Primo, i fottutissimi wall breach. Per chi non lo sapesse, i wall breach sono buchi, non quei buchi, che possono essere all'interno di edifici o altri elementi di scenario, addirittura alberi, a volte non sto scherzando, in cui è possibile entrare. Per i più ignoranti, se così vi posso chiamare senza che vi offendiate, perché per definizione ignorante non è un insulto e se vi offendete siete veramente ignoranti, ma ignoranti del tipo offensivo. Se un giocatore si trova all'interno di un wall breach, lui può sparare fuori e uccidere gli altri giocatori, ma gli altri non possono sparare a lui. Chiaro e semplice. Inutile dilungarsi perché sicuramente quasi tutti voi saprete già cosa sono. E in un open world come GTA Online sono probabilmente tra i bug slash glitch slash stronzate slash cancri più fastidiosi che possano esistere, se non i più fastidiosi. E la cosa più fastidiosa non è chi li usa di per sé, ma chi li usa pretendendo che gli altri vadano a cercare di ucciderli, pensando che non conoscano il wall breach. Coglione, come tu sei una faccia da culo che non si caga a nessuno, anche le altre facce da culo che non si caga a nessuno conoscono i wall breach, dopo anni che ancora non sono stati patchati. E ciò che fa più ridere, ridere per non bestemmiare, è il fatto che tutt'oggi nessuno di questi wall breach sia ancora stato patchato. E ma fan a me è ovvio, perché Rochettar non può patchare cose della mappa. No, certo, peccato che ha inserito un ponte vicino alla base operativa della diga, non può proprio patchare la mappa, eh, sacco di merda. Secondo e forse più importante, errori nell'unirsi alle sessioni e altri problemi simili. Già se giocate poco avrete sicuramente avuto l'onore di accorgervi di questo tipo di errori, come dicevo prima, figurarsi io che ci ho a che fare quasi ogni giorno. E fidatevi, ci sono più problemi di rete che giocatori online contemporaneamente in questo gioco. E io ancora tutt'oggi mi chiedo come tutto ciò sia possibile. Cioè, ok, so come sia possibile, ma io più che altro mi chiedo il perché. Santo iddio, dopo anni e danni, Rochettar ancora lascia il suo gioco in queste condizioni. E questo è un problema grave, molto più grave di ciò che si possa pensare. Soprattutto per il fatto che non ci gioco ad un gioco. Se non ci posso giocare per i fututi problemi di rete che compaiono una volta sì e l'altra pure. Terzo, il Cristo Santo Benedetto del Cielo di Testosterone Bullshark. Madonna cosa non è il Testosterone Bullshark. Per i più ignoranti, vi prego non vi offendete, è una cosa che vi dà vita doppia e danni doppi per un minuto richiedibile dalmeno interazione. Oh, non c'è una volta in cui Rochettar l'ha combinata giusta. Neanche una! Ad ogni cazzo di aggiornamento, col TBS compare un problema diverso. Appena inserito, spawnava male. Spawnava male nel senso che se vi trovavate sopra ad un palazzo o ad un tunnel, vi spawnava in strada o sopra al tunnel. E non bastava richiederlo di nuovo. Eh, magari! Perché non si può richiederlo di nuovo se già sta spawnato! E cosa bastava fare allora per risolvere il problema? Cambiare sessione? Uscire da GTA Online? No, assolutamente no! Riavviare il cazzo di gioco! Mai nella storia di GTA Online ho visto un bug che richiedesse di riavviare il gioco per risolversi. Dopodiché hanno risolto questo problema, ma hanno fatto in modo che in sessione privata potesse prenderlo solo chi aveva avviato la sessione. E mio Dio, come cazzo fai a combinare una cosa simile? E Dulcis in fundo, dopo aver risolto tutte queste cose, ora spawna più in ritardo di prima, soprattutto in sessione pubblica. E questo potrebbe non essere un problema se non fosse che se voi lo spawnate nel punto A e vi spostate nel punto B, quando il testosterone spawna non spawna nel punto B, ma nel punto A! In generale, poi, di problemi minori, ma neanche tanto minori, ce ne sono tanti altri che persistono dagli albori di GTA Online. Visto che parole difficili, albori. Altri esempi veloci? Il glitch della super velocità dell'Hydra, per dirne uno. Il fatto che tempo fa su PS3 venissero tolte tutte le personalizzazioni ad alcune armi facendo più di un deathmatch di fila, per dirne due. Il fatto che ora in free mode vengano tolte le livree e i colori delle armi arbitrariamente a caso dal gioco, per dirne tre. I vari glitch dei soldi che continuano tutt'oggi a uscire, per dirne quattro, soprattutto dall'uscita del centro operativo mobile. Ah, e al riguardo mi avete giustamente ricordato che ora non è possibile accedere al centro operativo mobile mettendoci i veicoli anche discretamente lontano dalla fiancata, perché tempo fa c'era un glitch che tramite questa procedura permetteva di duplicare le auto. Vedete cosa vi dicevo? Vedete cosa cazzo vi stavo dicendo? È mai possibile che Rockstar invece di patchare un glitch, piuttosto che lasciarlo circolare e impegnarsi per eliminarlo veramente, elimina o limita delle funzioni del gioco? E il bello è che prima o poi i nodi vengono al pettine. Rilasciare queste patch, tra molte virgolette, significa solo ed esclusivamente rimandare il problema, perché tanto prima o poi, molto probabilmente, uscirà comunque un glitch che utilizzerà una di queste falle a cui tu Rockstar hai messo una pezza fatta di fottuto nastro adesivo di carta! Ma non sarebbe tanto più semplice correggere per bene tutto e subito? Vogliamo parlare dei trasferimenti del personaggio? In breve, molto in breve, tempo fa era possibile passare i progressi da old gen PS3 e Xbox 360 a next gen PS4 e Xbox One. Ora, su PS3 e 360 si può tuttora moddare, ma su PS4 e One no. E non venitemi a parlare di fattirici mod menu offline con la versione PS4 per gli sviluppatori e stronzate varie. Voglio vedere se vi banano la console mentre utilizzate una di queste stronzate, poi che fate? Comunque, Rockstar mica pensa a come risolvere il problema all'origine su PS3 e Xbox 360, oppure a come fare in modo che gli account moddati non passino su PS4 e One. Nope! Se ne lava le mani, come al cazzo di solito, e disattiva i trasferimenti! E per carità, non fraintendetemi, hanno fatto bene a non permettere i trasferimenti degli account moddati, ma non posso dire la stessa cosa riguardo al modo in cui l'hanno fatto! Andiamo, Rockstar, sei una casa sviluppatrice di un videogame che ha venduto quasi 100 milioni di copie! Vuoi seriamente farmi credere che sia così difficile per te risolvere questo tipo di problemi? Non dico per un programmatore normale, non dico per un team di programmatori normali, parlo dei tuoi programmatori! Andiamo, su, puoi sicuramente fare meglio di così! Ma... 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 Grazie per la visione